Seguirei un'esibizione di basket in Caruzina con alcuni atleti e ex atleti. Sì, insieme, insieme! Così, giriamo pure la palla, dai! Otto, sette... Sì, bravi! Sì, grazie! Mi attacco, grazie! Sì, grazie! Sì! Sì, grazie! scripture guarda! Sì, grazie! Sì, sì, sì! 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 Cinque, quattro, tre, due, tre! È ora, è la birretta del terzo quarto per Kampala, per Kampala. Il bar è ufficialmente aperto. Sì, 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 sì! 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 Sì, sì!